Si terrà domani sabato 4 febbraio a Vittoria, a Palazzo Iacolo, l'incontro del sottosegretario delle politiche agricole Giuseppe Castiglione con i sindaci della fascia trasformata Firmatari su proposta del sindaco Moscato di un documento congiunto lo scorso 20 gennaio. Al termine del vertice con i sindaci si terrà un confronto dallo stesso Castiglione, rappresentante della situazione di categoria del mondo agricolo. Lo scorso 20 gennaio ha spiegato lo stesso Moscato con i sindaci di Caltagirone, Niscemi, Gela, Pachino, Licata, Comiso, Santa Croce, Ispiga e Dacate, abbiamo firmato un documento per chiedere interventi rapidi a tutela della nostra agricoltura. Nelle nostre città si respira una fortissima crisi economica e sociale e abbiamo chiesto provvedimenti urgenti, rileva ancora Moscato, a sostegno dei produttori dell'intero comparto. Il sottosegretario alle politiche agricole ha persanto accolto il nostro appello, rendendosi disponibile per un confronto al fine di vagliare insieme un percorso da intraprendere, volto al sostegno dell'agricoltura dei nostri territori.